E' solo inizio, principio di una mas' grande tribolazione. Gesù ha profetizzato una grande tribolazione antes che regrese il coronavirus. Questo è un messaggio da Sisi, la città di San Francisco, un messaggio profetico, una vacuna contro il coronavirus. Eccoci, questa vacuna contro il coronavirus è la migliore vacuna. Questa è la parola di Dio. Dice, il che abita sotto la protezione del Altissimo e mora a la sombra del Todopoderoso. Dica a Dio, tu eres mi rifugio e mi roca, mi Dio, in cui confio. E' la parola di Dio è la parola di verità. De nuovo, dica a Dio, tu eres mi rifugio e mi roca, mi Dio, in cui confio. Tiempo di fede, di orazione, di penitencia. E' la migliore vacuna, la fe, l'orazione, la penitencia.